Andiamo adesso a salutare Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben trovato. Grazie, sempre un piacere. Come stai vivendo queste ultime due settimane di mercato? Dall'esterno naturalmente, è chiaro che è anche il momento delle vacanze, del mare, però si dà sempre un occhio abbastanza approfondito alle mostre di mercato. Beh sì, anche perché domani inizia il campionato, quindi tutto sommato alla fine manca qualche tassello, però diciamo che le squadre sono quasi completate. Ecco, voglio partire con te parlando del Lecce e chiederti se secondo te è stata allestita una squadra sul livello di quella dell'anno scorso, in attesa naturalmente degli ultimi giorni di mercato, una squadra che possa tranquillamente giocarsela per restare in Serie A, al netto delle partenze anche illustri. Beh, me lo auguro, solo il campo dirà come staranno le cose sul serio. Io credo di sì, anche perché conoscendo l'ambiente, conoscendo la dirigenza, hanno preso dei giocatori che magari non sono conosciuti, non sono noti, però secondo me sposano la causa del Lecce. Quindi insomma, la garanzia resta il DS Corvino? Tra le tante del Lecce, perché comunque insomma ci sono anche altre certezze assolute, anche in squadra? Beh sì, anche perché poi comunque sono andati via due giocatori importanti, però poi comunque sono tornati Falcone, che l'anno scorso ha fatto differenza, è tornato. Quindi io sono del parere che Corvino la vede sempre lunga rispetto agli altri, e poi con il budget, secondo me, con un budget basso, è secondo me il numero uno in Italia, perché è facile fare, dico sempre, mercato quando hai a disposizione del denaro, ma il problema è quando ne hai poco. Per lui fino adesso ha dimostrato che anche con poco si possono costruire e si possono prendere giocatori validi. Spostandoci invece a parlare del Torino, altra tua ex squadra, hai la sensazione che quest'anno potrebbe essere quello giusto per puntare con maggior decisione all'Europa per Granata? Beh direi di sì, perché comunque la squadra si è rigiovanita, ma ha preso dei tasselli dei giocatori importanti. Poi quelli che dell'anno scorso hanno fatto la differenza sono rimasti, quindi diciamo che l'ossatura è quasi quella dell'anno scorso, quindi sanno già come giocare, perché poi quando hai a che fare con allenatori come Juric, non è che sono allenatori tra virgolette normali, hanno un gioco tutto particolare, quindi ci vuole del tempo prima che possano assimilare il gioco. Invece la squadra, l'ossatura è rimasta quella dell'anno scorso, in più hanno preso dei giocatori validi, e quindi credo, spero, mi auguro di cuore che possa essere l'anno giusto. La Roma invece che ruolo potrà ritagliarsi in questo campionato? Una Roma che ancora attende di conoscere il nome del nuovo attaccante? Ci sono stati vari tentativi per il reparto offensivo da parte di Giallorossi, spesso andati a vuoto. Sì, secondo me dovrebbe essere la ciliegina sulla torta, perché comunque effettivamente manca un attaccante, perché si parlava di Zapata, che secondo me è l'ideale per la Roma, perché comunque è un giocatore che è sempre andato a doppie cifre. Perché poi in difesa la reputa è una delle più forti del campionato. Il centrocampo è cambiato totalmente, con giocatori di qualità, di valore, e è chiaro che adesso manca un attaccante di peso e di valore, anche perché se vuoi colmare il gap con le altre e cercare di trovare questa benedetta Champions, purtroppo devi fare un sacrificio là davanti e spendere un po' di soldi e trovare l'attaccante valido. Anche perché sono cinque anni che non è fuori dalla Champions e quest'anno io credo che non si possa permettere il lusso di rimanere nuovamente fuori da questa competizione. Quindi Zapata secondo te potrebbe essere il nome giusto? Da un punto di vista tecnico non si discute? Magari delle riflessioni vanno fatte sulla condizione fisica? E conosce il campionato italiano, è uno che comunque ha tante esperienze anche a livello internazionale e poi uno che si sta bene, ripeto, ha sempre fatto la differenza, quindi non vedo perché non dovrebbe farla la Roma. Le tue riflessioni anche sulla nostra nazionale, sulla federazione, dopo le dimissioni di Roberto Mancini? Tu che hai fatto parte anche dei quadri federali. Sì, è chiaro che è stata una notizia che nessuno si aspettava, però evidentemente quando fai determinate scelte sicuramente uno ci avrà pensato di cento volte, quindi bisogna rispettare assolutamente la scelta e il pensiero dell'allenatore. Fortunatamente a livello tecnico in Italia non mancano i sostituti, quindi se andiamo a pensare che molto probabilmente sarà Spalletti, diciamo Spalletti, un allenatore fresco e campione d'Italia, che comunque ha tanta esperienza a livello internazionale e da quello che leggo sui giornali anche l'alternativa è racconta, quindi possiamo dormire sogni tranquilli. Certo è che al di là del fatto che Mancini potesse dare le dimissioni con un po' d'anticipo rispetto a quanto l'ha fatto a Ferragosto, c'è anche un altro nodo da sciogliere, che è quello di tanti collaboratori che facevano parte dello staff di Mancini che dovranno essere in qualche modo ricollocati. Anche questo potrebbe essere un problema. Beh sì, è chiaro che prendendo un altro allenatore cambiano un pochettino gli schemi, perché giustamente l'allenatore nuovo si porterà dello staff. Avevo visto che Lombardo era nell'under 20, ma sicuramente seguirà Mancini, quindi cambierà l'allenatore e cambieranno anche, secondo me, qualche persona, qualche allenatore dello staff, come giusto che sia. E in generale che momento è per la federazione italiana, non solo per la necessità di cambiare il CT adesso, ma anche proprio facendo un'analisi più generale sulla condizione del nostro calcio? Beh è chiaro che quando stai fuori dai mondiali per due competizioni di seguito comunque non è un buon periodo, quello sicuramente. Però io sono fiducioso perché comunque ci sono dei giovani che sono cresciuti e io ho molto fiducia in questa nuova nazionale. Perché secondo me si apre un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e anche perché io credo che peggio non si possa fare. Perché poi paradossalmente, se pensiamo che qualche anno fa abbiamo vinto gli europei, è un paradosso. Stiamo fuori due volte dai mondiali e poi magari due anni fa abbiamo vinto gli europei. Diciamo che è un momento un po' così, atipico. Però io sono molto fiducioso perché guardando i giovani italiani credo che la nazionale sarà una grande nazionale. Enunziata, Carmine Enunziata, tecnico dell'Under 21, come lo vedi? Va bene perché comunque tutti quei giocatori, i giocatori dell'Under 21, quelli futuri, lui li conosce bene perché comunque li ha cresciuti. Perché lui è stato comunque da tantissimi anni che nelle nazionali è stato vice di Biagio, ha avuto l'Under 20. Quindi conosce l'ambiente e conosce soprattutto i giocatori. Quindi è salito di grado perché credo che sia anche meritato una cosa del genere. Però non credo che abbia dei problemi perché comunque i giocatori li conosce tutti quanti. Certo, i giocatori comunque ci sono. Il problema è poi relativo ai club e alla scarsa capacità di lanciarli in prima squadra. Il problema è sempre quello perché comunque i giovani ci stanno però li bisogna tra virgolette anche rischiare. Ma io sono sempre dell'idea che è giusto che i giovani giochino solo se sono all'altezza perché poi non vorrei far passare un pensiero che devono giocare per forza. No, perché poi i giovani se sono bravi è giusto che giochino. Bisogna anche rischiare però non sempre è così. Un'ultima considerazione tornando al campionato. La tua favorita per lo Scudetto, visto che ormai ci siamo per l'inizio del campionato. Su chi punti? Beh, è chiaro che il Napoli è la squadra che ha cambiato di meno. È la squadra che l'anno scorso ha espresso uno dei migliori giochi in Europa, non in Italia. Ha vinto facilmente un campionato e quindi giustamente ha cambiato poco. Ha preso un ottimo allenatore come Garzia, quindi l'impostatura, lo zoccolo duro è rimasto. Però anche le altre si sono rinforzate. Secondo me la Juve potrebbe essere una di quelle candidate perché comunque il fatto che non partecipi alle coppe e quindi sia concentrata solo e esclusivamente su una competizione o due incluse alla Coppa Italia penso che sia anche alla lunga un vantaggio. E poi secondo me sta allestendo anche una grande squadra perché se dovesse arrivare Berardi come si vocifera veramente sarebbe una delle candidate a vincere lo scudetto. Luigi, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi.